Il tema di oggi sono le ricorrenze e il metodo di sostituzione. Vi faccio vedere. Allora, il metodo di sostituzione è un metodo in cui si cerca di indovinare, guess, una soluzione in base alla propria esperienza. Si dimostra che questa soluzione è corretta tramite induzione. Quindi invece di avere un meccanismo ben preciso per cui, diciamo, tramite una serie di calcoli ottenete un risultato, ipotizzate che sia un certo valore, come potrebbe essere, non so, secondo me questa equazione di ricorrenza costa teta di n. E a quel punto dimostrate il limite superiore o grande di n e il limite inferiore omega grande di n. Potreste sbagliare, nel senso che potrebbe essere possibile che il vostro tentativo non vada a buon porto, vedremo alcuni esempi di queste cose, e potreste non riuscire a dare una definizione stretta. Potreste dire che questa funzione ha una complessità che è o grande di n quadro e omega di n, cioè in qualche modo non riuscite a chiudere la forchetta fra il limite superiore e il limite inferiore. Però comunque avete già una stima di quello che potrebbe essere il comportamento di una funzione. Potreste anche esagerare, cioè io potrei dirvi che una funzione che vi faccio vedere è uno grande di n cubo. Dovrebbe essere molto facile dimostrarlo se questa funzione, per esempio, in realtà è uno grande di n. Quindi è come dire, ho già fatto un esempio del genere, provate a dimostrare che io sia alto meno di tre metri, e questo è abbastanza facile da dimostrare, ma riuscire a dimostrare che io sono alto un metro e novanta richiede un pochino di più attenzione, una pochina di più precisione per quanto riguarda la stima. Allora, ripartiamo da funzioni che più o meno abbiamo già visto, all'inizio più o meno sono sempre le stesse, poi ne vedremo alcune più varie anche nelle esercitazioni. notate che qui mi permetto, perché poi abbiamo una parte di dimostrazione matematica ben precisa, mi permetto di ragionare un attimo anche su l'utilizzo di interi inferiori, interi superiori e così via. Dopo faremo un discorso finale nell'ultima slide su questo argomento. Allora, abbiamo questa funzione, equazione di ricorrenza, e io potrei iniziare a cercare di capire più o meno come butta. Secondo voi è n quadro? È u grande di n quadro? È u grande di n? È omega di n? n log n? Cosa sarà mai? Provate a mandarmi qualche tentativo prima di guardare le slide successive. Perché è questo di cui si tratta. dare un'occhiata e dire, secondo me, questa è la classe di complessità a cui appartiene questa funzione. Però non sono sicuro, lo devo dimostrare. E si può sbagliare. È basato sull'esperienza. Attualmente non ne avete molta, quindi non vedo grandi suggerimenti. però ecco che arrivano, grazie. Un sacco di persone tirano cuore n log n. Qualcuno dice log n basta. Un sacco di persone dicono n log n. E qualcuno dice anche, cerca anche di essere un pochino più preciso, dice l'albero di ricorsione è una linea lunga log n, ogni nodo costa o di n, quindi n log n. E adesso provo a farvi vedere che non dovrebbe essere così, quello che avete suggerito. E però vi dico, una volta terminata la lezione, provate a dimostrare che è un o grande di n log n, come avete detto. Ci riuscirete, perché quello che avete detto è tutto corretto, ma non è stretto, perché si può dimostrare qualcosa di più basso, cioè un o grande di n. Vi faccio vedere. Allora, l'idea, ricordatevi, quando parliamo di albero di ricorsione, ricordatevi che non è detto che il costo di ogni livello sia sempre uguale, perché è vero che c'è questa componente qua n, però dipende dalla dimensione dell'input che gli date. All'inizio potrebbe essere n, poi potrebbe essere n mezzi, così via, quindi dopo io in realtà dovrò andare a sommare i costi che man mano si ottengono nei vari livelli. Se sono bravo con le serie e con questo tipo di analisi, quella che abbiamo visto la volta precedente, io posso usare quell'analisi, funziona bene. Se non sono bravo, voglio provare un altro metodo, utilizziamo questo in cui diamo una stima e cerchiamo di mostrare che è corretta. Quindi la mia stima è questa. Il primo livello costa n, il secondo livello ho messo da parte il primo n e poi pago n mezzi, perché alla seconda chiamata avrò n mezzi. Notate che qua non sto a sottigliare sull'intero inferiore e così via. Poi pagherò n quarti, poi pagherò n ottavi, poi pagherò n sedicesimi, ma non mi ci sta, eccetera, eccetera. Pagherò n trentaduesimi e così via. E alla fine quello che succede è che in realtà tutto questo spazio che vi ho fatto vedere è limitato da 2n con la parte tratteggiata. Ok? Quindi in realtà se osservate questa cosa senza star tanto diciamo a utilizzare i limiti delle serie che ho sulla slide successiva, ma intuite che in realtà è lineare, potete provare a dimostrare che sia lineare utilizzando il metodo di sostituzione che vi faccio vedere. Quindi, se invece voglio fare le cose utilizzando il vecchio metodo, avrei scritto i uguale a 0 fino a log n, n l'ho portato fuori, e poi ho un mezzo alla i, quindi un mezzo alla 0 ora 1, pago n, poi un mezzo, pago n mezzi, poi un quarto, un ottavo e così via, fino ad arrivare a log n. Questo è sicuramente minore uguale della serie geometrica decrescente infinita che ho portato fino in fondo, fino a più infinito, e quindi utilizzando la serie geometrica decrescente infinita che abbiamo già visto, quello che otteniamo è che tutto ciò è limitato superiormente da 2m. In realtà potremmo anche fermarci qui per quanto riguarda il limite superiore, ma io vi devo far vedere il metodo di sostituzione e quindi ve lo faccio vedere partendo da questa idea. Quindi è come se considerate di non avere questa slide, ok? Questo non è indovinare, questo è calcolare correttamente, fate finta di non aver fatto questo calcolo corretto e provate e proviamo a dimostrare la correttezza. Prima di andare avanti ho notato un paio di risposte che forse vale la pena di commentare. Qualcuno ha detto sicuramente omega di n, Fabrizio, giustissimo, perché sto pagando almeno n, poi vi farò vedere vari approcci più e più volte, ma poi alla fine userete sempre quello più semplice, cioè alla prima chiamata io pago sicuramente n, quindi chi ha proposto invece un costo pari al log n si sbaglia perché almeno alla prima chiamata prima di iniziare la ricorsione pago un costo che è un peta di n, quindi non può essere log n, ok? Allora, il metodo di sostituzione in pratica consiste nell'applicare una dimostrazione per induzione sulla nostra equazione di ricorrenza. Quindi la parola sostituzione va a intendersi che voi sostituite un termine ricorsivo con la vostra diciamo termine che avete stato provando a dimostrare. Faccio vedere. siccome è una dimostrazione per induzione la prima cosa che facciamo è cercare di dimostrare il caso base quindi dobbiamo dimostrare che l'equazione è vera per t di 1 ma non posso applicare in t di 1 l'equazione ricorsiva devo utilizzare il caso base quindi scrivo questo è abbastanza standard dopo un po' vi stufate a scriverlo ma per correttezza bisogna scrivere tutto t di 1 uguale a 1 e questa è la definizione deve essere minore o uguale di cosa di t di n scusate di c per n perché perché io voglio dimostrare quella che è la definizione della mia notazione o grande devo dimostrare che esiste una c maggiore di 0 esiste un m maggiore o uguale di 0 tale per cui t di n minore o uguale di c per n qualunque n maggiore o uguale di m quindi se io voglio provarlo devo provarlo per induzione da un certo punto in poi e la prima cosa che devo fare nell'induzione è provarlo nel caso base quindi io scrivo siccome n è uguale a 1 scrivo minore o uguale di 1 per c a questo punto questo oggetto che vedete qua è quello che devo dimostrare ma questo è vero per qualunque c maggiore o uguale di 1 quindi io una volta ho fatto questa parte della dimostrazione mi metto da parte questo vincolo c deve essere maggiore o uguale di 1 a questo punto vado avanti invece con l'induzione faccio un'ipotesi induttiva che dice per qualunque valore di k minore di n t di k è minore o uguale di c per k che è esattamente questo oggetto qua tradotto qui ma questo diciamo è l'ipotesi su cui mi baso per l'induzione e mi dice che per tutti i valori più piccoli di n che è il valore che voglio dimostrare t di k è minore o uguale di c per k se vi ricordate in una lezione precedente avevo dimostrato che log n è uno grande di n e l'avevo fatto per induzione ora quella parte al di là del piccolo esercizio è totalmente inutile perché non è quello che facciamo normalmente noi sappiamo già che log n è limitato superiormente da o grande di n ok quello che facciamo è fare cose di questo tipo cioè avere una qualche funzione generata da un qualche algoritmo e andare a dimostrare che quella funzione cresce al più come lineare log lineare quadratico così via quindi una volta che ho fatto questa ipotesi induttiva poi la posso applicare per sostituzione man mano che vado avanti vediamo come allora io ho la mia funzione t di n mezzi più n e quello che vado a fare è per sostituzione sostituire t di n mezzi n mezzi intero inferiore con questo deve essere siccome n mezzi intero inferiore sicuramente più piccolo di n quindi rispetta questa condizione che c'è qui è un k più piccolo di n allora io posso prendere quel valore k e ricordarmi che ho fatto un'ipotesi induttiva e scrivere c per k ma k è intero inferiore di n quindi scrivo c per scusate intero inferiore di n mezzi e quindi scrivo c per intero inferiore di n mezzi poi riporto il più n perché questo deriva dal dalla parte sopra che viene semplicemente copiata a questo punto ricordatevi quello che abbiamo fatto all'inizio è una disequazione posso operare cercando di portarmi una condizione che mi permetta di dimostrare la disequazione non importa calcolare il valore esatto mi importa dimostrare la disequazione quindi la prima cosa che faccio siccome non sono molto bravo a gestirli mi rimuovo l'intero inferiore ok e quindi scrivo minore uguale di c di n mezzi più n questo è sicuramente vero perché n mezzi è sicuramente più grande di intero inferiore di n mezzi a questo punto faccio un po' di algebra inizio a raccogliere n e ottengo c mezzi più 1 per n non riesco ad andare molto più avanti di così con l'algebra e quindi vado a scrivere quello che era poi il mio obiettivo della dimostrazione io voglio dimostrare questo questa parte qua ok voglio dimostrare altro quindi vado a scrivere quello che è il mio obiettivo della dimostrazione che è minore o uguale di c per n e a questo punto ho questi ultimi due oggetti questo e questo li tratto come una disequazione elimino n semplifico n perché n è sicuramente un valore positivo perché ci interessano le funzioni di costo quindi non cambia il verso della disequazione e ottengo c maggiore o uguale di 2 facendo i calcoli opportuno fatele voi e questo è il risultato finale ora a questo punto ho la mia dimostrazione è completa e dice che t di n è minore o uguale di c per n nel caso base se c è maggiore o uguale di 1 nel passo induttivo se c è maggiore o uguale di 2 guardate questo 2 corrisponde al 2n che avevo fatto nel disegno avevo scritto n qua e poi questo era un altro n ok non è saltato fuori a caso se avessimo delle costanti moltiplicative ci sarebbero tutte le varie costanti moltiplicative per 2 e questo deriva dal fatto che non tanto il vostro n log n che era il numero di passi cioè quel log n derivava dal numero di passi di chiamate ricorsive ma deriva dal fatto che andiamo a sommare per la serie geometrica decrescente infinita n ne mezze ne quarti così via ok quindi per concludere questo vale per n uguale a 1 e per tutti i valori n seguenti perché abbiamo dimostrato per 1 e per tutti i valori successivi quindi abbiamo trovato anche m m uguale a 1 quindi tutta questa cosa l'abbiamo dimostrata per c per c uguale a 2 e per m uguale a 1 questi sono dei valori che vanno bene ma ovviamente qualunque valore che sia maggiore uguale di 2 qualunque valore che sia maggiore uguale di 1 va bene allo stesso nome dopo tutta questa fatica ho dimostrato che t di n è limitato superiormente da n lo usate per ribadire che quello che mi avevate detto era giusto perché voi avevate stimato superiormente n log n però io sono un pochino più preciso e sono riuscito a fare una stima più stretta a questo punto mi domando e la risposta è già sì ma lo facciamo con tutti i crismi se è anche un omega di n perché se fosse un omega di n allora questa funzione di cui non sapevo molto prima di iniziare a questo punto so che cresce esattamente come una lineare con un fattore moltiplicativo che dipende da 2 ok o meglio è limitato superiormente da 2 ma questo è un dettaglio secondario a questo punto se voglio dimostrare che ho un omega n ho due strade questa è la strada maestra nel senso che vale per tutte le funzioni e non per alcuni casi particolari ma questo è anche un caso particolare e quindi faremo anche la dimostrazione utilizzando il fatto che possiamo scrivere le cose più in fretta ma prima la facciamo in generale quindi notate che ho scritto esiste d maggiore di 0 esiste m maggiore o uguale di 0 e t di n maggiore o uguale di d per n qualunque n maggiore o uguale di m ora la differenza da prima è che c'è una d a intenderci che non stiamo mischiando questa costante moltiplicativa con la c precedente sono due cose diverse hanno vincoli diversi anzi non possono probabilmente essere compatibili e quindi ne cerchiamo due valori distinti quindi caso base quindi 1 uguale a 1 questa è la definizione 1 per d questo è quello che vogliamo dimostrare e questo d ci dice che d deve essere minore o uguale di 1 normalmente nei limiti inferiori invece di avere c maggiore o uguale di abbiamo d o un'altra costante minore o uguale di poi passo induttivo per qualunque k minore di n quindi per tutti i valori dimensioni dell'input più piccoli della dimensione che sto dimostrando n t di k è maggiore o uguale di d per k nostro obiettivo passo in induzione a questo punto vedete sto facendo un po' di calcoli ci ho provato è un metodo forse se avete altri metodi volete suggerirmeli vanno benissimo ma io tanto devo dimostrare una disequazione e quindi posso in qualche modo approcciarla in vari modi quindi cosa ho fatto la prima la sostituzione questa è la parte importante d per n mezzi intero inferiore poi ho un intero inferiore non un intero superiore e sto dimostrando un limite inferiore questo mi dà un po' fastidio perché non non riesco a gestire bene questa quel limite inferiore quindi vado a dimostrare che è maggiore o uguale di d di n mezzi meno uno perché prendendo l'intero inferiore in questo modo evito mi trovo un limite più basso più n che deriva da i passaggi sopra a questo punto faccio un po' di algebra più e più volte algebra e ottengo questo oggetto qua d è minore o uguale di 2 meno 2 2 su n ok l'ho scelto l'ho scelto dopo rispondo alle domande l'ho scelto questo tipo di analisi anche perché genera questo oggetto allora cosa è questo oggetto noi abbiamo un vincolo dalla disequazione precedente che d deve essere minore o uguale di 1 ok e poi abbiamo questo vincolo che abbiamo ottenuto con il nostro metodo ma è un vincolo che deve essere rispettato perché la nostra disequazione sia valida la nostra dimostrazione sia valida d deve essere minore o uguale di 2 meno 2 diviso n quindi cosa succede a questo punto non vi sto facendo il disegno di questa funzione mi sto facendo il disegno di questa funzione cosa succede per questo oggetto man mano che cresce n allora per n uguale a 1 questo oggetto è 2 meno 2 diviso 1 ed è 0 ok qui poi se invece prendo n uguale a 2 quello che succede è che 2 meno 2 diviso 2 cioè 1 quindi qui poi è sostanzialmente una moniperbole diciamo e quindi tenderà al valore 2 per n che tende all'infinito ok quindi ricordatevi però che qui mi ho fatto una brevissima analisi di una funzione semplicissima quello che mi interessa è dire che da un certo diciamo valore in poi tutto ciò viene soddisfatto dal fatto che d deve essere minore uguale di 2 meno un termine che va verso l'infinito allora cosa scriviamo a questo punto c'è un errore non ho notato allora abbiamo provato che t di n è maggiore uguale di d per n nel caso base per d minore o uguale di 1 nel passo induttivo per d minore o uguale di 2 meno 2n ok un valore d che rispetta entrambe le disequazioni per ogni valore n maggiore o uguale di 2 scusate e d uguale a 1 questo vale per n uguale a 2 e per tutti i valori di n seguenti quindi m uguale a 2 e da quel punto in poi il fatto che il mio valore sia più piccolo o uguale di 1 va benissimo quindi abbiamo provato che t di n è un grande di n abbiamo provato che t di n è un omega grande di n e quindi abbiamo provato che t di n è un teta di n a questo punto ho un paio di domande che ho lasciato in sospeso adesso le riprendo dovremmo ripetere perché m può essere solo 1 e non anche 0 essendo che la definizione di o grande dice che esiste almeno un m maggiore o uguale a 0 allora questo riguarda la dimostrazione sull'o grande l'avevo lasciata un po' indietro quindi noi vogliamo dimostrare questo oggetto vogliamo dimostrare questa equazione di ricorrenza io devo decidere di partire da un certo caso base ho deciso di partire dal valore 1 che corrisponde all'input di dimensione 1 quindi ho scelto di considerare t di 1 potevo considerare anche t di 0 t di 0 uguale a 1 deve essere minore o uguale di 0 per c ok e questo è vero per qualunque valore no scusate sto dicendo 1 sostanzialmente questo è 1 minore o uguale di 0 e questo non è vero per nessun valore di c sostanzialmente questo perché in questo particolare caso questo particolare caso base qui non riesco a dimostrarlo poi vedrete altri esempi di queste cose qui però il punto qual è? a me non importa a me importa di partire da un certo valore e dimostrare che da quel valore in poi è sempre rispettato chiaro Lorenzo? le ho risposto? invece Matteo mi dice non mi è chiarissimo perché nel passo di sostituzione D di n mezzi diventa D di n mezzi D non è solo la costante moltiplicativa sì però il punto è questo in realtà vale anche per questa parte nel momento in cui qua faccio questa sostituzione io ho come obiettivo provare una costante moltiplicativa D e questo è il mio obiettivo quello che vedete sottolineato qua faccio faccio un'ipotesi induttiva che mi dice che T di k è maggiore o uguale di D per k ok allora a questo punto io utilizzo questa ipotesi induttiva qui perché vado a dire siccome n mezzi intero inferiore è minore di n quello che avevo richiesto qui ok allora l'ipotesi induttiva è vera e quindi vado a sostituire a quel valore k n mezzi intero inferiore quindi mi viene fuori D per n mezzi ok ok Lorenzo dice perché parto da n uguale a 1 non da n uguale a 0 mi è chiaro non capivo la relazione con m uguale a 1 il motivo era poi che semplicemente siccome sono riuscito a dimostrarlo da 1 in poi parto da cioè assegno il valore m 1 devo anche assegnare il valore 2 perché tanto se è vero da 1 in poi è vero anche da 2 in poi però ovviamente quando uno fa la dimostrazione cerca di dire quello che è il valore più piccolo ok invece Lorenzo dice Lorenzo dice così e anche Matteo dice chiaro Alberto mi dice ma esistono dei casi in cui non si può dimostrare il caso base mi verrebbe da dire che per T1 in quanto numero finito possiamo sempre trovare C e D adatti la risposta è no ve lo faccio vedere dopo però non te la che anticipo ho una slide proprio su quel caso particolare e coinvolge il logaritmo ma vedrete in un attimo questo l'abbiamo fatto no sì questo ricordatevi che io volevo dimostrare che T di n è un'omega di n avevo già dimostrato che T di n è uno grande di n ok in questo particolare caso ma non è sempre così è possibile dimostrare che T di n è un'omega di n semplicemente dando un'occhiata al termine non ricorsivo che è un n quindi l'aveva detto qualcuno un po' di commenti prima sicuramente T di n mezzi più n siccome la funzione T è una funzione di costo positiva è tale per cui questo oggetto è maggiore o uguale di n quindi me la semplifico mi tolgo la parte ricorsiva non ho più bisogno dell'induzione è tutto molto più semplice e quindi quello che ottengo è che se vado a fare n maggiore o uguale di dn che poi è il mio obiettivo per farlo mi basta trovare che D deve essere minore o uguale di 1 e non ho bisogno di fare però dimostrazioni induttive basate sull'induzione perché è già lì sostanzialmente quindi non utilizziamo questa cosa perché qui in realtà quello che ci è successo è questo avevamo questa funzione abbiamo dimostrato che 1 grande di n la cosa da fare sarebbe stata provare a vedere se era anche un'omega di n perché? perché ci siamo subito resi conto che almeno n costava e quindi potevamo chiuderla lì ma alcune volte potrebbe saltar fuori per esempio l'abbiamo già vista ma la riscrivo t di n uguale 2t di n mezzi più n ok questa sappiamo essere teta di n log n l'abbiamo vista è quella del merge sort per esempio quindi magari io faccio la mia dimostrazione credo che poi sia nella slide successiva e mi viene fuori n log n però se utilizzo solo la parte non ricorsiva poi dico che è omega di n e non ho chiuso la forbice fra i due limiti quindi devo applicare la dimostrazione che avete visto prima ma se non è necessario basta usare questo trucchettino qua e siamo a posto grazie